questo prodotto realizzato da hobby fan ha conquistato una votazione di 8.8 su 10 punti totali in questa selezione è il più economico le sue peculiarità sono morbidezza ottimo rapporto qualità prezzo se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video la votazione finale assegnata a questo prodotto di farry valley è di 9.8 voti su 10 questo è il migliore di questa selezione riteniamo questo prodotto un buon modello adatto alle esigenze di chi cerca qualcosa di semplice ma allo stesso tempo efficiente se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video farry valley con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8.4 su 10 lo valutiamo come la scelta migliore questo prodotto è caratterizzato da un'elevata qualità è un articolo capace di accontentare un po tutte le tipologie di utenti trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video il voto finale aggiudicato da questo articolo di aie è di 8.8 voti su 10 risulta essere al momento il prodotto più regalato si tratta di un prodotto molto efficiente e versatile che offre prestazioni uniche se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video farry valley ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 7.6 su 10 risulta il più venduto si propone come una delle migliori soluzioni per qualità prezzo è realizzato con ottimi materiali e una qualità decisamente sopra la norma il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video questo articolo di farry valley ha riscontrato una valutazione di 8.4 su 10 totali risulta al momento avere il miglior rapporto qualità prezzo si tratta comunque di un articolo alquanto funzionale capace di distinguersi dalla concorrenza puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video